Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della nostra serie di Champions Infatti ragazzi mi avete consigliato a vero tantissimi e vi ringrazio a vero tanto per aver supportato quel primo episodio Di continuare la serie, quindi eccoci qua in questa seconda puntata Oggi andremo un pochetto a farmare e a vedere come riusciamo un attimo a gestire meglio il nostro Reams Anche se voglio prima di tutto trovare qualche Reams avversario per fare un po' di soldi da loro Per vedere più o meno qual è la media dei guadagni E se riusciamo ovviamente saliamo anche di rank visto che voglio salire verso il rank 3 Che credo di poter comprare tranquillamente anche adesso perché i soldi ce li abbiamo Eccoci quindi qui nel nostro Reams e come vi dicevo oggi voglio un attimo andare parecchio avanti Allora ho visto che evidentemente il mio castello, diciamolo castello anche se in realtà è il mio regno Perché Reams sta per regno, dovrebbe essere facilmente redabile Però ho visto che nessuno ha ancora redato, quindi non so bene come funziona diciamo la ricerca So che c'è un po' di gente online, tipo ci sono 226 persone online, 248 adesso sono aumentate E ovviamente quando sono uscito avevo 83 mila, non ho giocato per niente Quindi i soldi sono rimasti, questo significa che probabilmente sono rimasti i soldi Non so se magari effettivamente tipo di dare una percentuale o cose del genere Devo ancora scoprire questa cosa, quindi vedremo comunque assieme pian piano andando avanti nella serie E a parte questo come vi dicevo voglio un attimo tornare per ora prima nella parte della capitale Comprare per ora almeno il tier 2 che comunque ci interessa in realtà molto di più E poi anche il tier 3 e capire comunque se posso comprare dei picconi o cose del genere Per quanto riguarda la banca credo che per il momento non ci sia interesse nell'utilizzarla Anche se effettivamente abbiamo notato una cosa, più che altro l'ho notato io, non so se voi l'avete notato Ma effettivamente non abbiamo ancora trovato nessun modo per poter vendere dentro ai nostri shop Questa roba qui, quindi non so in realtà se c'è oppure no Da quello che ho capito qui c'è scritto che sono crafting materials Questo significa che probabilmente, molto probabilmente, saranno usati sicuramente per fare dei crafting Nel senso che oltre a dover pagare dei soldi dovremo anche craftarci la roba E questo mi ricorda moltissimo Wincraft che è tantissimo bello E anche un ragazzo di voi mi ha detto attento questa cosa Quindi cercherò anche di vedere un po' di fare dei miglioramenti Questa ovviamente è la nostra banca, poi in realtà è anche il nostro backpack Quindi, infine, perché dovrei tornare alla banca quando ho il backpack? Non lo so, sinceramente, al momento Comunque, andiamo per il momento verso il nostro shop E scopriamo se possiamo comprarci un piccone in ferro E più che altro se dobbiamo, forse, craftarcelo oppure no Perché se non dobbiamo craftarcelo comunque potrebbe essere un'idea Allora, a questo punto direi, facciamo in questa maniera Andiamo direttamente nella miniera Controlliamo se la miniera ci permette o no, comunque, di poter in qualche maniera Ricoprare del ferro e aumentarlo Qui c'è un bel po' di gente che effettivamente sta un attimo aspettando di andare avanti Quindi, vediamo un attimo se li, ecco, adesso comprarlo Facciamo... Ah, ecco, vedete, c'è anche il pickaxe shop Ok, quindi effettivamente si può comprare Però non so se possiamo utilizzarlo In realtà non so nemmeno Cosa cavolo possiamo farci questa roba Direi che possiamo comprare uno di questo E me ne da uno, va bene Quindi ci siamo, ce l'abbiamo Andiamo a comprarci i nuovi tier Andiamo a comprarci il secondo sicuramente che costa 5000 Quindi facciamo subito l'upgrade Quindi ci siamo, adesso abbiamo l'upgrade al tier 2 Infatti se probabilmente facciamo slash tier mi dice che sono tier 2 No, non me lo dice Però in realtà se io adesso mi sposto qui Vi faccio vedere che effettivamente possiamo rompere la roba qui dentro Vediamo un po' se è vero Rompiamo questa cosa E ce la dà, perfetto Questo è il tier 2 Che contiene in realtà anche, credo, la redstone Un pochetto di più rispetto alla precedente zona Ovviamente è sempre limitato per quanto riguarda i materiali Però alla fine, infine, comunque, è un po' di roba Possiamo per il momento adesso andare a rompere anche questa redstone Infatti ho preso apposto il piccone in ferro perché mi seguiva il piccone in ferro E vi ricordo, visto che qualcuno me l'ha chiesto già nei commenti Che il server è completamente premium Questo significa che dovete avere fatto un account in Minecraft per poterci giocare Soltornatamente, ragazzi, i server americani sono principalmente premium Anche i pezzettini di oro qui dentro Va benissimo Questo è un buon vantaggio per poter fare un po' di cose Infatti qui qualcuno scava, effettivamente, vicino a casa Vicino alla mia parte E quella parte che c'è scritto da sopra, a proposito, ragazzi Ho fatto un attimo una piccola ricerca Non mi rivediva in mente cosa significava il termine yield Ed effettivamente significa che più o meno minando un'ora nel tier 2 Guadagniamo 15.000 Non so se è vero, lo proveremo effettivamente Qua ci dice anche effettivamente quanta roba c'è dentro Tra minerali di ogni genere Potremmo comunque comprare effettivamente quello dopo A quanto, vediamo un po', 80.000 Noi abbiamo al momento, credo, sui 65k 77k, va bene, quindi abbiamo pagato Eh sì, abbiamo pagato 5k, soltanto quello precedente Quindi a questo punto direi che potremmo tentare Prima di tutto di fare qualche raid Così da guadagnare qualche soldino E con quei soldini se riusciamo Tanto manca davvero pochissimo 3k Riusciamo a fare anche il tier 3 Senza dover per forza minare nel tier 2 Che comunque mi sembra abbastanza inutile Da minare al momento Perché è simile a quello 1 Soltanto cambia qualcosina dentro Che a fine, insomma, non è tanta roba Quindi adesso che siamo nel nostro realms Possiamo andare a fare il raid Che vi dicevo Scegliamo ovviamente la classe Che per il momento è stato quella Perché non possiamo fare altrimenti Perché è solo una classe Che abbiamo acquistato durante il tutorial Però possiamo comunque Progredarla pian piano Allora, vediamo un attimo Possiamo raidarci da soli? Non credo sia una buona idea Comunque vediamo un po' cosa diciamo a fare Allora, questo qua per esempio Ha 6 camere Ha un sacco di mob Però non conviene secondo me Quindi a questo punto direi di trovare qualcosa di un pochetto più fattibile Allora direi un attimo di farmi Probabilmente questo qua GTF Che ha un po' di mob Un po' di trappole Un po' di cose E possiamo iniziare Vedete, possiamo selezionare gli item Per fare i raid Quindi questa roba Non la prendiamo sicuramente Però possiamo farci una spada A questo punto direi Che ci conviene Allora farci una spada E beh, si conviene Perché a questo punto Se possiamo farci il legno Tutto quanto Andiamo velocemente Prima di tutto A farci una spada Abbiamo sicuramente del legno Perché ho visto spesso La gente che lo minava Quindi viene un attimo di recuperarlo facilmente E dice che non posso romperlo Sei serio? Aspetta, allora Per chi diamine c'è sto coso Se non posso rompere il legno? Azz E quindi come faccio un piccone? Scusa, anzi piccato Come faccio una spada per giunta? Non posso Cioè, non c'è modo Non vorrei che sono costato a utilizzare Forse il piccone E poterlo rompere Però mi sembra abbastanza strano Perché possiamo rompere questa cosa qui Ok Però non possiamo rompere il legno Azz Come non recuperiamo il legno? Questo potrebbe essere un bel problema Credo proprio che siamo costati addirittura A comprarci le spade normali Però abbiamo visto che costano davvero parecchio Oddio, su mille qualcosa Quindi dobbiamo anche minare per comprarci le spade Peccato Pensavo di poterle fare manualmente Invece non possiamo Quindi a questo punto Andiamo con qualcosa di abbastanza tranquillo Oh mio Dio Però dai Non puoi farmene costare così tanto Ok Allora Vabbè Iniziamo con questa Porca vacca Costa parecchio ragazzi Una spada normale Così L'ho pagata 10k Devo comunque Rientrarci nelle spese Quindi spero davvero di potercela fare In questo caso Facendo ovviamente una battaglia Reams Quindi intorno a noi Proviamo un attimo a portarci Per il momento tanto la spada E andiamo a farci questo raid Speriamo che duri la spada Picato Spero che non si rompi Che non si rompa effettivamente Anche se qualcosa mi dice Che sicuramente si romperà Allora Ha un sacco di difese Abbiamo 20 minuti Per poter arrivare alla fine E devo uccidere ovviamente Principalmente i run Che sono quelli più complicati Secondo me Ok Abbiamo già la partenza qui Il cattiveria Con i nostri mob Cattivi Che arrivano qua Ovviamente Dobbiamo quindi in qualche maniera Buttarli giù Con le spell che abbiamo Ne ha messo davvero tanti A difendere Effettivamente questa zona Avete la spada però Si utilizza Quindi come sospettavo Dovremmo comprare un sacco di spade Se vogliamo fare i raid ragazzi Oppur sempre utilizzare le mani Però non mi sembra Una buona idea Usare le mani Sapete E va tempo Sti boar Fanno troppo Troppo male Ok Abbiamo ucciso tutti Recuperiamo comunque Le cose per craftare Altre cose Nel caso ci serviranno In futuro E possiamo andare avanti Per ora abbiamo distrutto 200% 200% Delle sue difese Quindi ci siamo Qua abbiamo una Cave spider Probabilmente che servirà Per qualcosa Non so bene cosa Ah è proprio Un pezzo di pavimento distrutto Va bene Cavolo quanto fanno male Quanto fanno male Ragazzi questi warrior Bene sarà davvero difficile Arrivare fino alla fine Fidatevi E' parecchio Parecchio complicato Probabilmente Oh ecco una trappola Ragazzi Infatti come sospettavo Quindi prima trappola L'abbiamo presa Qua abbiamo altri mob Che ovviamente scappano Perché vogliono andare via Se cadono giù Credo che muoiano Penso di si comunque Abbiamo quasi distrutto La prima zona O più che altro La zona Insomma che abbiamo qua E abbiamo perso Già una buona parte di cuori Sinceramente Bel problema Andiamo un attimo Di colpire questo Perfetto Ci siamo Siamo vicino La sua zona Principale Infatti questa E' insomma La parte che ci interessava Che sarebbe la zona del tesoro Però immagino Che ci siano sicuramente Dei mob di sopra Ce ne sono un fracco Porca caca Ah una trappola Ecco lo so Aspettavo Ok trappola Che ovviamente ci ha fermato Parecchio Immagino ci sia la trappola Anche da questa parte Probabilmente Ah è quella lì Ok quindi Fare attenzione anche Per terra Doi c'hanno i buchi Sono delle trappole Per la maggior parte Va bene Questa è una cosa Non posso fare molto Non posso fare molto Al momento Oltre che Cercare di scappare Più che posso Anche perché Non c'è molto da fare Con solo la mano E comunque Altri 95 Diamine Quei cosi Sono davvero Troppo veloci Per me Guarda come corre Guarda come corre Guarda come corre Non riesco manco a fermarlo È bello che non possiamo Mettere manco il berserk Perché non abbiamo Abbastanza esperienza Per poterlo fare Ovviamente Adesso attiviamo Le maggior parte Delle spell Che abbiamo al momento Che è soltanto una Poi più che altro Quindi attiviamo Quale maggior parte Solo una Ne attiviamo Abbiamo Quattro cuori Con tutta questa gente Che sta arrivando da noi Quindi direi di fare In questa maniera Adesso Correre più che possiamo Ovviamente Cercando di non farci Colpire da questi ragni Porca vacca E dobbiamo colpirli Solamente con la spell Un cuore perso Ne abbiamo ancora un po' di nemici Vediamo un po' se riusciamo Ad attivare questo Ok ce l'abbiamo fatta Anche se abbiamo avuto Un po' di difficoltà E siamo riusciti a guadagnare Quattordicimila di gold Va bene Abbiamo ridotto le sue difese Di tantissimo Abbiamo abbastanza gold Per poter andare avanti Però Abbiamo comunque speso 10k Per guadagnare Ma la pena Quattro e sette Wow La life force Ancora non so a cosa serva Però immagino Serva qualcosa come Valuta Per far cose Non lo so sinceramente All'un momento Comunque Torniamo un attimo Alla nostra capitale Ne andiamo a comprarci Il nostro nuovo tier Tier 3 Che ci permetterà Di avere un po' di soldi Almeno durante le minate Quindi Andiamo su di voi Andiamo a comprarci Nel tier shop Il tier 3 Che costa ben 80.000 Come potete vedere Adesso i soldi Non ce li abbiamo Per niente Però abbiamo questa roba qui Che avrà già Del ferro dentro Vediamo un po' Se qui possiamo minare Le cose Mi sa che non ci sta proprio Il mining del ferro Sono cose come queste Che ti fanno Cambiare la vita Guardate quelle barri Di salute O forse un pochino Troppi cuori Ovviamente è un bug Tranquilli Insomma però Forse conviene Un attimo Rilogare Perché quelle barre Sono abbastanza Fastidiose Anche perché Distruggono metà schermo Ok forse Quei cuori in minecraft Sarebbe una buona idea Averli Un bel po' Di stack di redson Sicuramente li ho recuperati Quindi vediamo un po' Se vendiamo tutto quanto Quanti soldi Facciamo Sbaglio Ci ha dato una spada In wooden Mi sa che ce l'ha Da indietro E dice che possiamo Inchantara Nell'arcane forge Dopo scopriamo dove L'arcane forge Ci ha dato 4 Oddio Ok ok Si guardano abbastanza 4.900 Soltanto per questa scavata Che ci ho messo poco A farla Direi che è un buon guadagno Sicuramente Quindi a questo punto Io adesso vado Un attimo all'entrata E poi In qualche maniera Tramite il server navigator Vado a warparmi Verso una zona interessante E no Però mi sa che Non esiste ancora Probabilmente Il potenziamento Oddio Aspetta Non è che si Evolve lì Dove comprovo le spade Può essere Magari di avere Tipo una spada precedente Più altre cose Potenziarla Può essere Che cosa vende Questa roba qui E ovviamente A me interessa Principalmente Le blacksmith No comunque Non credo sia qui Dove potevo Commentare Voglio comprare Questa spada In coso Però richiede Tipo Oddio diamanti Così tanti diamanti Porca vacca Infatti ok Vedete ragazzi Dice anche che Li servono dei materiali Per fare queste cose E giustamente Vedete Li servono i cristalli Prismani Per queste qui Quindi qua per esempio Le compravo a 10k E potevo comprare altre cose Con tipo Dei lingotti Qualsiasi tipo Va bene Quindi questa cosa Può fare Per quanto riguarda l'armatura Ovviamente non riesco a vedere questi Forse mi conviene abbassare un attimo Adesso la gui Vediamo un po' Adesso come va Molto molto meglio Allora queste cose Possiamo già comprare Perché abbiamo già il necessario Per quanto riguarda queste Potrebbe essere un po' Più complicato Direi che a questo punto Ci conviene Magari comprare cose Di abbastanza tranquillo Non troppo difficile E per esempio Questo qua Di 8000 Va bene Ci dà tanto Con 4 goblin flash Un miglioramento Per quanto riguarda lo speed Direi che possiamo anche comprarlo Vediamo un po' Quanto costa O più che altro Vediamo un po' Quanti soldi abbiamo E i soldi che abbiamo Credo Chi si possa avere con ball E ci siamo Mentre per quanto riguarda Loot bag Dove tanto recuperare Dei goblin flash Me ne servono 4 Giusto Vabbè Prendiamone comunque 9 Totale Tanto alla fine ce l'abbiamo Perfetto in questa maniera E con ball Vediamo quanti soldi abbiamo Abbiamo 6000 Perfetto Quindi vado ad un attimo Minare Giusto 2000 9000 di roba In sostanza Vi faccio un po' Di soldini Ci compriamo Il primo pezzo D'armatura Che non so quanto durerà Però si spera Un pochetto Anzi A questo punto direi Facciamoci un altro ride E guadagniamo comunque soldi Tanto la spada per ora Qui rimane E la possiamo utilizzare Tranquillamente Quindi va bene così Per il momento E abbiamo completato Il nostro ride Secondo ride Della giornata Che spero ci abbia dato Un po' Di soldini Ci ha dato 9000 gold La spada credo Comunque ci sia ancora Questa cosa per vederla Basta trovare un attimo Di nuovo Nel nostro La nostra capitale Scopriamo un attimo Se è vero Vediamo 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 un po' E non lo so Sinceramente Ok si la spada rimane Quindi ok La spendete una volta E la tenete per sempre Almeno quello Sinceramente Piccone ritorna Normalmente nella vostra mano Quindi abbiamo ufficialmente Visto un pochetto Di cose relative al server Possiamo farci un sacco di ride Potere un sacco di soldi E secondo me Forse quello è il metodo migliore Per poter andare avanti Anche perché Abbiamo fatto 16k Possiamo comprarci adesso Una spada migliore Ma io andrei più che altro Visto che ci sono adesso A comprarmi sicuramente Dei boots Che potremmo utilizzare Nelle prossime ride Non saranno questa gran cosa Ma sicuramente Sono un vantaggio in più Contro i mob Che ci vogliono attaccare Quindi direi di comprarceli Tutti adesso Adesso Facendo così E annaccio a comprare Questi qua Iniziali 8000 Perfetto Quindi Li abbiamo comprati? No Bisogna essere almeno Livello 2 E come salgo in realtà Adesso Bella domanda Non lo so Sinceramente Anche perché Credo non ci sia nemmeno Un modo di poter vedere A che livello sono Quindi Bella domanda Scopriremo questa cosa Nella prossima puntata In ogni caso Abbiamo scoperto Che possiamo Comprarci un sacco di cose fighe Noi comunque Ci vediamo Nella prossima puntata Quindi mi raccomando Continuate a supportare il canale Lasciando un bel like Ovviamente iscrivendovi al canale Trovate qui sopra Dei piccoli avvisi Che vi ricordano Insomma Che cosa dovete fare E soprattutto Cosa dovrei fare Io nella serie Visto che comunque Sono principalmente Dei sondaggi Che potrebbero aiutarmi E aiutare anche voi A capire comunque Cosa volete vedere Qui sul canale In ogni caso Noi ci vediamo presto In un nuovissimo video Ciao ragazzi